salve a tutti ragazzi e benvenuti su lit gaming benvenuti su destiny 2 in questa seconda parte la guida all'impresa esotica diario del criptarca dell'atollo la quest che ci ricompenserà una volta terminata con il signora del tuono la famosissima mitragliatrice esotica del primo destiny nello scorso video nella parte 1 abbiamo visto gli incarichi delle prime due settimane in questa seconda ed ultima parte finalmente arriveremo ad ottenere l'arma e innanzitutto dovremo andare sulla torre e parlare con holiday che ci darà l'ultimo step dell'impresa ci richiederà quindi di andare nuovamente sulla terra nuovamente nella zona morte europea e nuovamente nel settore perduto cascata dei sussurri qui basterà seguire l'indicatore di missione e troveremo un tel trasportatore con cui poter interagire che farà partire a tutti gli effetti la missione da dover portare al termine e qui quante ne avrei da dire ragazzi non voglio mostrarvela per esteso per il semplice motivo che questa missione è quasi un easter egg alcuni di voi addirittura potrebbero non aver mai nemmeno visto quest'area di gioco per il semplice motivo che è una zona del cosmodromo del primo destiny quella iniziale quanti ricordi ragazzi la nostalgia si fa sentire comunque non voglio mostrarvi la missione perché voglio lasciarvi il piacere di esplorare un po' questa ormai andata area parlando delle imprese in ogni caso completata la missione non sarà troppo difficile il livello luce dovrebbe essere impostato su 200 quindi alla portata di tutti i giocatori e una volta completata la missione torniamo sulla torre torniamo da amanda che ci ricompenserà con l'ultimo ingramma di eaves un ingramma esotico unico che non potrà nemmeno essere scartato e la cui ricompensa sarà prestabilita infatti andando dal cryptarca della torre e aprendo questo ingramma verremo ricompensati con il signore del tuono la tanto ambita mitragliatrice che naturalmente occuperà lo slot dell'arma distruttiva e che come possiamo vedere il perché intrinseco sarà caos sovrano le uccisioni con quest'arma generano fulmini dall'alto mi piacerebbe portarvi presto una recensione esotica ma probabilmente aspetterò un eventuale catalizzatore anche se per quest'arma per via della sua natura potrei anche fare un'eccezione comunque staremo a vedere per quanto riguarda però l'impresa esotica diario del cryptarca dell'atollo e tutto come al solito vi ringrazio per la vostra attenzione spero il video sia stato di vostro interesse e vostro gradimento vi invito a lasciarmi il vostro feedback e noi ci sentiamo alla prossima ciao a tutti ragazzi